La dodicesima giornata mette di fronte le due squadre più in forma del campionato. Il Valloscalo, terzo con 23 punti, reduce da 4 vittorie consecutive, ma complessivamente in serie positiva da ben 9 gare. E lo Stio Cilento, primo con 26 punti, unica squadra imbattuta del campionato, con all'attivo 8 vittorie e 2 pareggi. Uno scontro diretto con i padroni di casa che mirano ad agganciare la capolista in vetta alla graduatoria. Ma dopo un quarto d'ora equilibrato, lo Stio Cilento trova la giocata giusta per sbloccare il risultato. Rimessa da fondo campo di Cortazzo, sfiora di testa la palla trotta a centrocampo che innesca lo scatto di Giuseppe D'Ambrosio che entra in area e batte Falcione sul primo palo. Rivediamo l'azione e il colpo di testa di Cortazzo che prolunga la traiettoria della palla a sorprendere la difesa del Valloscalo, schierata proprio sulla linea di centrocampo e che non riesce a recuperare sullo scatto di D'Ambrosio e dunque al quindicesimo, Stio Cilento in vantaggio. Passano dieci minuti e lo Stio Cilento raddoppia. Scambiano a centrocampo Caroccia e Bonfisco, palla su Trotta che di esterno serve sulla sinistra Catino che entra in area, dribbla Ruggiero e con un diagonale batte per la seconda volta Falcione. Questa volta il Valloscalo si fa sorprendere sul settore sinistro dove Catino, imbeccato da un bel lancio di Trotta, riesce a superare Falcione. Al diciottesimo del secondo tempo il Valloscalo dimezza lo svantaggio, lungo rinvio di Scarpa, malinteso tra Viterale e Caputo, si inserisce Dario Perretta che mette la palla in rete. E il 2-1 che dà coraggio al Valloscalo che si riversa in attacco alla ricerca del pareggio ma lascia inevitabilmente spazio al contropiede dello Stio che al ventisesimo chiude la gara proprio su azione di rimessa con Giuseppe D'Ambrosio che realizza il 3-1 finale a favore dello Stio Cilento. Stio Cilento